a leona e vai dai che io arrivo in bilancia sa che te credi dar 6 piglia o zaino e parti su per la montagna felice scarpina scarpina fino in cima in cima devi andare in cima o so e che te le posso fa vai in cima in cima in cima arrivi a cima no guardi de sotto e poi lì in sulla cima che trovi due possibilità un uomo che sembra un armadio a muro o un uomo che sembra un aquilone e fai la conta vedi un po' che puoi fa e poi se non ti piacciono e basta che te butti no e te ne vai subito hai capito leona forte eh ciao